Bobbi andiamo a tagliare i capelli, sai? Dalla signora che ti ho portato l'alzapone. Non cominciare. Non puoi essere brutto. Finiscila. Bobbi? Ehi! Dove sei che non ti vedo? Dove sei? Andiamo a tagliare i capelli? I capelli della ragazza, no? Non ho parole. Adesso andiamo da lei e facciamo casino. Cosa c'è? Ma? 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 Uitando per 2 Grazie a tutti.